Voi forse non lo sapete ma io ogni volta che devo iniziare il video devo mettere a posto la collanina Cioè non deve esserci la chiusura davanti, entro in crisi Anche ad agosto mi sono organizzata per iniziare una nuova chat e sarà divisa in tre puntate La iniziamo oggi, il 23 è il mio compleanno, io ci tengo, sì, dovete farmi gli auguri Quindi ci sentiamo su Instagram dove vedo anche gli spoiler puntata per puntata delle nuove chat che devono uscire Inserirò una nuova tipologia di video perché ho scoperto che, vabbè, internet è un posto bellissimo Voi sapete, chi mi segue da anni sa che io trovo le cose più assurde e le porto qui nei video Però questa volta non sono classifiche horror, non sono chat, sono tutorial Non sto scherzando, io ho trovato cose, vabbè vedrete Tra l'altro penso che farò anche un video penso su Instagram, un reel Così capirete bene di cosa sto parlando Quindi su Instagram sarà più corto e invece qui sarà più lungo perché sarà un video intero Ma basta pensare al futuro, concentriamoci sul presente e iniziamo questa nuova chat Vi ricordo che questa chat è per la sitios.blu.it, su Facebook mentiri di fontes.blu, su Instagram spuntibluofficial Ciao a tutti, oggi vorrei condividere con voi una cosa molto brutta che quella che credevo un'amica mi ha fatto Devo fare una premessa, da ragazzina sono stata con un ragazzo violento È capitato più volte che mi mettesse le mani addosso e mi facesse veramente male In più era solito farmi violenza anche psicologica Diceva sempre che non ero capace di fare nulla, mi faceva terra bruciata intorno con tutti Avevo perso tutti i miei amici Io avevo 16 anni, lui 22, ero completamente soggiogata Perché credevo che lui avesse ragione a dirmi tutte quelle cattivere pensando di meritarmele Ogni minimo errore portava a litigi che sfociavano in botte Con il tempo però mi sono resa finalmente conto che non ero io quella sbagliata E che volevo mettere fine a tutto quello schifo che subivo e che gli permettevo di farmi Mi sono fatta coraggio e nonostante le sue minacce l'ho lasciato Passano gli anni, mi riavvicino ai miei amici e me ne faccio di nuovi Fra cui la protagonista di questa storia, Mara In due anni di amicizia era diventata come una sorella Tant'è che la coprivo in tutto, nonostante gli immensi casini che combinava Era una ragazza molto insicura ed era solita stringere rapporti con i ragazzi con cui sono stata O che ho frequentato, ma a me non me ne è mai fregato niente Però non avrei mai immaginato cosa sarebbe successo dopo Chi ha fatto Mara t'ha fregato il ragazzo? Chi è più S-T-R-O-N-Z-A, Mara o il ragazzo? Noi iniziamo subito da questo presupposto perché poi non ne voglio sentire altri eh Se mai dovesse essere che il fidanzato della protagonista di questa chat che ci scrive È andato con Mara, l'S-T-R-O-N-Z-O è lui Stessa cosa se fosse successo al contrario Cioè che il ragazzo ci scriveva e la ragazza era quella che gli metteva le corna Cioè è sempre quello fidanzato il colpevole, che sia uomo o donna Poi l'amica certamente Da eliminare Ma è chi ama Che non si farebbe mai venire per l'anticamera del cervello Il pensiero di andare con un'altra persona Chiarito questo presupposto E ovviamente non sto difendendo l'amica Però mi avete capito? Vediamo cosa succede Perché adesso mi sono fatta un filmone Magari non è così Leggiamo Quindi è questa Mara che scrive Alla protagonista di questa chat Non abbiamo capito come si chiama ancora Comunque Dopo quello che mi hai raccontato ieri sera Mi sento molto triste Se mi trovassi fra le mani quel pezzo di M Lo strangolerei con le mie mani Lo so amica Ma ormai è passato L'ho superata bene E non mi importa più Comunque grazie per avermi ascoltata Volevo che lo sapessi Perché mi fido di te E mi sembrava giusto confidarti questa cosa Ma ti pare? Ci mancherebbe che io ti ascolti Ma come si chiama questa M? Perché me lo chiedi? Sono curiosa di vedere la sua faccia da cavolo E lei scrive il nome S Ok lo chiameremo Stefano Chiedo scusa a tutti gli Stefano che stanno guardando Ma devo pur dare un nome E se no S Madonna che faccio da schiaffi Vorrei incontrarlo per Ok Vabbè Se lo meriterebbe Questo è sicuro Ma non vorresti prenderti una piccola vendetta? Mi metterei nei casini Per uno che tanto si rovinerà la vita da solo Un ignorante Svogliato Cattivo e violento come lui Non potrà mai avere nulla dalla vita Brava Quindi me ne frego Il karma farà il suo dovere E lo fa sempre Prima o poi Sì capisco il tuo discorso Ma se fossi in te Vorrei vederlo soffrire All'inizio A caldo Poi una volta che lo superi Vuoi semplicemente non sapere più nulla di quella persona Basta Mamara non si arrende Ti propongo una cosa Lo aggiungo su Facebook Inizio a scrivergli Lo conquisto Per poi farlo stare malissimo Ma perché? No grazie No dai Lascia stare Non voglio che ti avvicini una persona simile Anche perché è un violento Cioè Qui non si tratta solo di essere più furbi o meno furbi È comunque una persona pericolosa Dai oggi vieni a casa mia Io gli scrivo e tu assisti in diretta Se poi non ti va più Lo blocco e non faccio nulla Ma anche no Ha detto no Mmm ok Vabbè C'è cascata Vabbè Quindi ci andiamo insieme A che ora vengo? Vieni per le 20 Va bene Ci vediamo stasera Quella sera sono andata da lei E ha iniziato a messaggiargli E tutto sommato era divertente sapere di avere la mia piccolissima vendetta Mentre si iscrivevano Dato che vivono abbastanza vicini Lui gli ha chiesto di vedersi la mattina dopo E di andare a casa sua per fargli compagnia I genitori erano partiti Ah direttamente a casa Manca un caffè Io ovviamente le ho detto di non andare Perché conoscendo l'elemento non mi fidavo E avevo paura le succedesse qualcosa Le ha insistito per andarci Dicendo che se la poteva cavare da sola Non ho potuto impedirglielo E ci è andata Il giorno dopo la chiamo Ma non risponde Dopo poco mi scrive Cioè se la mia amica fosse andata A casa Del tizio Del mio ex Che era violento Con me E non mi rispondesse Cioè io avrei chiamato veramente chiunque La forestale anche Ok finalmente Mara scrive Sono ancora da lui Ti scrivo appena torno a casa Sei ancora là Quindi il giorno dopo Che cavolo fai? Sto per tornare Fra dieci minuti sono a casa Amica sono a casa Ok finalmente Mi hai fatto quasi venire un infarto Cavolo Perché eri ancora lì? Che è successo? Praticamente è venuto a prendermi a casa Siamo andati a casa sua E mi ha offerto Ok Non l'hai fatto vero? Giusto qualche tiro Dopo aver Ok Abbiamo parlato Ed è venuto fuori Che sei mia amica E lui ha cambiato subito discorso Scusami ma il patto non era questo Il patto era che tu lo facevi invaghire Poi lo mollavi malamente Non che parlavate di cose personali Dopo abbiamo guardato un film E lui ci ha provato Io ci sono stata E ho dormito là Ah ok Bene Vabbè Ti sei divertita? Stai scherzando? Secondo me sei impazzita Non partire in quarta Non l'ho fatto perché mi piaceva Ah no Bene Ma perché voglio fargli credere Che mi piace? Così quando lo manderò A quel paese Ci resterà ancora più male Mara Così no Adesso mi sembra di essere responsabile Per quello che hai fatto Non dovevo darti corda Ah mo l'ho fatto perché volevo farlo Anche se tu non avessi accosentito L'avrei fatto comunque Spoiler Secondo me Altro che non mi piace Un po' ti piaceva Perché va bene La vendetta è tutto Ma Mi sembra che si sta andando molto oltre Perché la prendo come una cosa personale Vabbè Ti voglio bene Voglio che quello là La paghi per quello che ti ha fatto So già che mi pentirò di tutto questo Ma più che dirti di smettere Non posso fare Cerca di stare attenta almeno Non è una persona equilibrata Quindi non sai come può comportarsi Evita di andare a casa sua Se siete soli Sei tranquilla Oggi lo rivedo Ma non andiamo da lui Dove andate? Così so dove sei Se le cose dovessero andare male Cavolo Mi sembro mia madre No Ma tu fai bene Sei una brava amica Lei ride Vabbè Non lo so ancora Se riesco te lo faccio sapere Mentre sono con lui Ma voglio evitare che veda che ti sento spesso Vabbè Non è che sta con la faccia così sul tuo telefono Non sa che siamo molto amiche Sa che ci conosciamo di sfuggita Va bene Ora mi preparo per uscire Ci sentiamo dopo E il dopo Non si sa Perché siamo alle 10 e un quarto Penso di quella sera Alla fine non mi hai fatto sapere niente Sei sparita Tutto bene Oi Sì tutto bene Ma è stato strano Cioè Come ti ho detto ieri Lui non sa che io e te siamo amiche Sa che ci conosciamo di vista La cosa strana È che ha tirato fuori La questione su di te Di sua spontanea volontà Senza che io ti nominassi di nuovo Mi ha raccontato Che era ancora piccolo Che tutto quello che ti ha fatto Non lo faceva per cattiveria Nei tuoi confronti Sì certo Ma perché aveva dei problemi risolti Che ora ha superato Cioè Non credete mai Astecazzate Se no vengo lì Che ora ha superato Che vorrebbe chiederti scusa in ginocchio Ma ha vergogna a farlo Perché avresti tutte le ragioni Per trattarlo come una M Piccolo A 22 anni Non si è tanto piccolo Esatto Basta con ste cavolate Ma manco a 15 anni Se è così piccolo Se si inizia con questo Modus operandi Da piccoli Tra virgolette E lui non era piccolo Comunque Si rischia Se non si va in terapia Se non si risolvono bene Ma proprio bene Le questioni Di rifarlo Capite Succederà di nuovo Non perdonate Allontanate A 22 anni Non si è tanto piccoli Per il resto Non commento neanche Uno squalido Fa il santarello Adesso Dice di essere cambiato Ma non è così Perché le persone così Non cambiano Nascono M Moriranno M Punto A meno che A meno che non decidano Di riprendere La propria vita in mano Ripeto È entrare in terapia Fare qualcosa di serio Per cambiare Purtroppo però La maggior parte Non lo fa Quindi allontanatevi Via Lontani Correte Veloci Tra l'altro Fa benissimo A dire che avrei Tutte le ragioni Per trattarlo Come una M Meglio se Continua a farsi La sua vita E non mi cerca Perché io Non voglio averci Nulla a che fare Ti giuro amo Mi è sembrato sincero No vabbè Mamma mia Che altro guaio Nella tua vita Cara amica mia Poi ho un ragazzo Dolcissimo Ha passato tutto il tempo A farmi complimenti A dirmi che sono Una ragazza speciale Si chiama Love Bombing Ne stai seriamente Parlando bene Sei completamente Impazzita Dai non puoi essere Sera mi stai prendendo in giro Perché dovrei prenderti in giro Ti sto solo raccontando Quello che mi ha trasmesso Come persona Ma secondo voi Se si presentassero Dall'inizio Come delle M Le persone ci cascherebbero No All'inizio sono sempre fantastiche So che quello che è successo Ti influenza Ma non devi farti condizionare Le persone possono cambiare Dopo tutto quello Che ti ho raccontato Non puoi pensare Che sia una brava persona A me sembra che sei tu A star diventando cattiva Pure Perché devi metterlo All'agogna così Ma hai capito quello Che le ha fatto Per anni Ha detto che vuole scusarsi E che è pentito Non è così tanto Una M alla fine Io non commento Fate voi Utilizzate i commenti Come sfogo Mettete gli asterischi Sulle parolacce Ma io vi lascio tutto Tutto Non cancello nulla Il giorno dopo Dice appunto La ragazza che ci invia Le chat Mi ha chiamata E ci siamo messe d'accordo Per vederci Abbiamo litigato pesantemente Sono rimasta molto delusa Perché da un giorno all'altro È cambiata radicalmente E ha dimenticato Tutto quello che abbiamo passato E tutto quello che ho sempre fatto per lei Le ho detto che non doveva più scrivermi Perché ormai il nostro rapporto Non era più recuperabile Brava Qualche giorno dopo però Mi scrive per spalleggiarla In una discussione Con la sua migliore amica Con cui aveva litigato Da qualche mese Quindi c'è una terza amica E io ti dovrei spalleggiare Dopo che tu Vai a letto E anche giustifichi Il mio ex Che mi venava Ma tu hai dei problemi seri E infatti Lei scrive Tu non sei normale Io cattiva Mi ha preso a botte Più e più volte Mi ha fatto sentire Una nullità Per tutto il tempo Che siamo stati insieme E mi ha fatto litigare Con tutte le sue cavolate Mi metteva contro I miei genitori addirittura Approfittava della mia fragilità E della mia età Per manovrarmi Se una persona così Secondo te può cambiare C'è qualcosa che non va Vabbè Ne riparliamo quando ti calmi Ecco E' partita la voce Che metto alle persone che odio Non vorrei continuarsi ad attaccarmi Ma non ti sto attaccando Sto cercando di farti ragionare Sulla cosa Ci sentiamo domani Boh vabbè Allibita E forse il giorno dopo Appunto Quando ci ha detto Lei Mara Scrive Alla nostra amica Alla nostra amica Io ho mai detto che R R facciamo Roberta Ok O Roberta Vediamo se è un uomo o una donna Che R Qualcosa Innanzitutto Ciao In secondo luogo Se credi che dopo quello che è successo Ti parerò La pesca Con R Sappi che stai sprecando tempo Anzi Falle vedere Ok è una ragazza Roberta Anzi Falle vedere questo messaggio Sì me lo ha detto più o meno a gennaio Brava Non ti paro più niente Ben diverso da quello che mi stava dicendo lei E sti cavoli Quelli dove ce li metti Che cosa mi è caduto La forcina Vabbè ciao Hai finito di trattarmi con questa risufficienza Cioè No E' già tanto che Lei ti risponda Se magari smettessi di cercarmi per i tuoi comodi I miei comodi Beh si sono cose che hai tirato tu fuori con Roberta Quindi grazie a te lo sono diventati Ho detto solo la verità Quindi cosa vuoi da me Non ti ho detto che sono cavolate mi pare Volevo solo sapere quando ti avevo detto questa cosa Allora se non vuoi essere fraintesa Esprimiti decentemente Anziché incavolarti Comunque pensavo di essere stata abbastanza chiara Non cercarmi Ciao Ricordati che tutti siamo stati ex di qualcuno Non per questo uno non può rifarsi una vita Detto questo posso anche non cercarti Fosse quello il problema Lo sai bene che non mi è mai fregato un cavolo Se vedevi mia ex Visto che l'ha già fatto altre volte Non sono il tipo di persona che fa la gelosa storia finita Se è finita c'è un motivo E sei libera di fare ciò che credi Non mi interessa Qua però si sta parlando di una cosa molto più grave Se sei così malata da voler stare con un pazzo come lui Sono solo affari tuoi Ma io i rapporti con persone di questo genere li chiudo Stop Sì esatto sono solamente affari miei Se voglio stare con quel pazzo Hai capito bene Appunto vai per la tua strada Ciao io l'adoro L'adoro Adoro come risponde Tanto la tua l'hai fissa di strada Occhio non perderti Ciao Ma cos'è mi mandi anche le macumbe Cosa intendi Sentiamo sono curiosa Sì dilla tutta Che se ti succede qualcosa E avrei bisogno della mia vicinanza Chiamerò qualche Chiunque Anche un estraneo Ma non te Non tutto poi si può recuperare Perché di certe cose si parla Non si attacca come stai facendo tu Io non sono le altre persone alle quali dici E fai quello che vuoi Lo sai bene A me non frega nulla Piuttosto vado sotto un ponte Ma di te non voglio sapere più nulla E per oggi la prima parte termina qui Ci sono tre parti Ci vediamo venerdì E nel frattempo mi raccomando Sfogatevi giù nei commenti Non fate i bravi sfogatevi